Spiegaci prima, venga l'altro passo Venga l'altro passo Non venga l'altro passo Non venga l'altro passo Non venga l'altro passo Non venga l'altro passo Bisogna inserire qua Anzacain Non venga l'altro passo Poi poggia il soggetto Non venga l'altro passo Si tira dal suo lato Si scompa Che ha il coglione Poi si aggancia Poi si aggancia Prima l'altro Stato Ecco qua E' l'elefante alla destra Dello spadaccino che Caca di fronte Al classico Capito il classico Questo è il nuovo modello Spadaccino E' un modello Enquotamento E' un modello E' un modello E' un modello E' un modello E' un modello